Sì, noi abbiamo parecchi danni realizzati in modo particolare alla caduta di alberi, alla rottura di cavi e a qualche frana, smontamento e abbiamo anche un territorio particolarmente delicato che è già chiuso da tempo da una frana, adesso c'è un altro in movimento e di conseguenza abbiamo questa situazione un po' davvero preoccupante. Però quello che è stato la cosa che ci ha preoccupato di più è proprio stato l'intervento di quello che è successo ai tetti e pertanto noi abbiamo una cinquantina di famiglie che hanno subito dei danni al tetto, dei danni che sono comunque ingenti in quanto ci avremo circa una centinaia di persone questa sera che sono costrette a dormire in altri siti, che per fortuna hanno reperito da parenti e amici e questo è stato un dato anche di fatto molto importante e di generosità. Io ringrazio davvero tutti i cittadini che questa mattina si sono prodigati, è naturalmente la macchina organizzativa del Comune, la protezione civile, la Croce Rossa, i volontari, i quantalti, i dipendenti, tutti che si sono prodigati, però devo dire che c'è stata molta attenzione anche da parte del Comune, dei cittadini del nostro Comune. Ecco, lei parlava di Croce Rossa, si sono occupati anche loro dello smistamento degli sfollati, diciamo che però non si sono dovuti occupare di feriti, questo è un ottimo dato comunque vista la situazione non era scontato. Noi abbiamo nell'analisi che abbiamo fatto quest'oggi e vista la situazione ci siamo domandati davvero che siamo stati graziati perché ci sono stati degli avventi che indubbiamente potevano essere davvero ricordati come brutti anche dal punto di vista di feriti, per fortuna non abbiamo e di conseguenza questo è un dato molto importante, forse la madre di padre eterno e forse anche di donando è servita. Lei questa mattina sempre ai nostri microfoni ha fatto in un certo senso una missione di responsabilità, dice che forse dovreste prevenire meglio queste situazioni, come si può fare? Sì, io non sono di quelli che dico che bisognerebbe che l'alerta fosse l'alerta, cioè indubbiamente l'alerta già la c'era, non pensavamo che fosse una situazione del genere, però noi dobbiamo essere pronti perché comunque sappiamo che al di là dell'alerta alcune situazioni vanno comunque affrontate e risolte, io ho nella mia coscienza tra virgolette qualche difetto dal punto di vista che potevo essere più pronto e più, parlo in prima persona come sindaco che me ne assumo le responsabilità, indubbiamente poi quando passa questa emergenza magari diciamo poi lo facciamo, lo facciamo, bisogna fare gli interventi, dicevo prima ai miei tecnici e ai collaboratori che dobbiamo fare una cartina perché poi diciamo lo facciamo, dobbiamo fare una cartina dove vediamo dove succedono determinate operazioni che al sistema dobbiamo mettere per fare degli interventi anche di prevenzione e in alcuni casi noi stiamo abbastanza attenti perché io poi non sono tenero nei miei riguardi e nei confronti della persona e delle mie responsabilità, però voglio dire bisogna che arriviamo preparati, dobbiamo ormai convivere con queste determinate situazioni che sono situazioni che dall'alerta gialla o da nessuno tipo di alerta possono passare a questo improvviso, d'altra parte il tempo è cambiato, l'atmosfera quella che è e la situazione dobbiamo essere pronti, per tanto dobbiamo avere molta attenzione anche a queste situazioni, dobbiamo essere pronti e non scaricare la colpa su nessuno perché la colpa ce l'abbiamo tutti, questa mattina non facevo notare, lo dico che in alcune situazioni ci sono i tombini che si tappano con dieci di foglie, penserebbe che il cittadino passando con le scarpe o con un punto dell'ombrello togliesse le foglie che il tombino lavora, ci siamo accorti che in alcuni casi si sono prodigati, in altri casi guardavano e nessuno faceva nulla, ci vuole questa copartecipazione, siamo tutti responsabili nel nostro piccolo della situazione e anche della sicurezza, l'autoprotezione è un qualche cosa che deve entrare proprio nel nostro DNA, l'autoprotezione è quella che ci mette nella condizione di non cacciare la carta per terra perché da qualche parte va, ma quello anche di guardare che ci sono situazioni e non parlare dal mogugno ma fare delle segnalazioni, qualche volta venire a tirare anche per la barba al sindaco, quando è volta anche prenderlo, non dico per i fondelli ma per qualche calcio diciamo negli stinchi forse bisogna darlo. A proposito di segnalazioni, ultima domanda, i cittadini hanno telefonato questa mattina, anche questa sera chiedendo dei fiumi, la situazione dell'Entella, oggi l'Entella è stato clemente, diciamo però la situazione del letto del fiume qual è? Allora, intanto la situazione dell'Entella è stata clemente, ma noi abbiamo un fiume dell'Entella che indubbiamente non è tanto legato al letto del fiume, nel letto del fiume c'è da fare qualche piccolo intervento sulla pulizia di alcuni alberi, ma non sono le piccole alberature che danno fastidio, d'altra parte chi si ricorda la storia il nostro fiume è calato, di conseguenza il letto del fiume è molto basso, noi dobbiamo fare una prevenzione che parte a monte di queste operazioni, dobbiamo tenere i tombini puliti e dobbiamo far sì che l'Entella venga portata avanti con il progetto di messa in sicurezza della cinquantenale e col franco centenale, poi lavorando su quello facendo il secondo argine, perché tutti i fiumi di rispetto, tutti i fiumi di aree urbanizzate hanno il secondo argine e nel secondo argine non parlo della diga per figli, non vorrei cadere nella polemica, ma si tratta di fare un secondo argine che è portata alla cinquantenale, non alla duecentenale, la duecentenale è portata sull'aspetto dell'emergenza definitiva e quella va risolta per conto mio con delle tecnologie moderne, noi abbiamo proposto il canale scolmatore che è una cosa che si può fare, mi auguro che tutti quelli che hanno responsabilità, ma mi pare che anche la regione e la città metropolitana abbiano compreso che qualche cosa bisogna fare in questo senso, bisogna vivere l'emergenza, ma però bisogna programmare degli interventi che sono mirati alla nuova tecnologia, voglio dire hanno fatto degli scolmatori nell'inizio del secolo scorso, degli scolmatori da 10 km, noi abbiamo uno scolmatore che potrebbe essere lungo 3-4 km, facciamolo perché questo va a risolvere il problema dell'Intella, noi abbiamo fatto, questo lo dico a precisare, noi abbiamo fatto degli interventi interessanti invece sui rivi secondari, questi sono quelli che danno preoccupazione, questa mattina le abbiamo monitorate, hanno retto bene, abbiamo finito un grande lavoro liapanesi, ne stiamo finendo uno qui dello canale, qui a San Salvatore, abbiamo quello sotto di noi che è molto pericoloso, stiamo facendo la progettazione, abbiamo due lotti in partenza, c'è questa tensione e poi abbiamo la colina che è molto fragile con tutte le frane e tutti i rivi che sono su della colina, pertanto attenzione massima a questo territorio.